Ho sparato agli animali vaganti nel mio terreno che hanno calpestato e rovinato le culture. E la giustificazione è data da un 44enne alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. L'uomo, residente a Urbino, è stato infatti denunciato per porto abusivo di armi da fuoco, uso di dispositivi per illuminare i bersagli in ore notturne ed esercizio della caccia in un periodo di divieto. La vicenda ha avuto inizio lo scorso aprile, quando al commissariato di Urbino sono arrivate segnalazioni su una presunta attività di bracconaggio in una zona di periferia, non lontana dalle case. È stata così avviata un'indagine con servizi di appostamento tra le località di Mazzaferro, Biancalana, Tufo e San Cipriano. Poi, la sera del 30 maggio, l'ennesima segnalazione. A quel punto gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno individuato l'uomo. Il 44enne era in possesso di una carabina allestita con un dispositivo ottico di precisione e di illuminazione notturna dei bersagli. Ai poliziotti però ha dichiarato di aver sparato in direzione di alcuni animali nel terreno di sua proprietà, perché stavano rovinando le colture. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, all'uomo sono stati sequestrati il fucile e le 39 cartucce. Inoltre, essendo sprovvisto di licenza di caccia, perché titolare solo di quella per il tiro a volo, nei suoi confronti è stata avviata la procedura per il ritiro sia di questa licenza sia di tutte le armi in suo possesso.